E allarme truffe agli anziani nel Mantovano. Lo scorso anno nella provincia virgiliana questo reato che colpisce una delle fasce più deboli della popolazione ha visto un incremento del 22% per la fascia di età tra i 70 e i 100 anni. Nel 2018 le truffe denunciate erano state 64, nel 2019 78, ma i casi sono certamente molti di più perché molti anziani truffati si vergognano a dirlo. In crescita anche le frodi informatiche di cui gli anziani sono stati vittime passate da 11 a 25. In controtendenza invece i dati del capoluogo con un calo del 22% delle truffe agli anziani in genere e del 17% di quelle informatiche. Sono i numeri illustrati stamani dal questore di Mantovano Paolo Sartori che ha presentato la task force coordinata dalla questura che coinvolge la diocesi, l'ausere e l'università della terza età. Obiettivo, attraverso gli strumenti di ognuna di queste realtà raggiungere il maggior numero di anziani con l'informazione su come difendersi dalle truffe. Abbiamo ideato questa iniziativa per cercare di raggiungere il maggior numero di potenziali vittime possibile, contando sul fatto che questi enti e queste organizzazioni hanno una presenza capillare sul territorio e fungono da punto di aggregazione nei confronti delle persone anziane. Cerchiamo di intervenire nel modo che riteniamo che possa essere il più efficace possibile, cioè informando queste persone, dando loro dei punti di riferimento e facendo in modo che si possano sentire protette dalle istituzioni che operano a loro tutela e per cercare di prevenire e reprimere queste particolari forme di reato. Hauser, tra i soci e le persone assistite per l'emergenza a caldo in estate, potrà far arrivare l'informazione a circa 16.000 anziani, l'università della terza età a 1.200, le 168 parrocchie del territorio ad altre decine di migliaia di persone. Ma ognuno degli anziani informati può fare poi il passaparola, parlare con quei coetanei più resti ad avere una vita sociale o che magari abitano in posti isolati. Ho avuto l'occasione di incontrarmi con i coordinatori e i moderatori dell'unità pastorale per condividere un po' con loro. Poi ci sarà l'occasione di un'assemblea del clero per sempre condividere con la base e quindi di fare delle proposte che magari possono arrivare ai fedeli in chiese attraverso di loro, ecco un po' agli anziani, quelli più nascosti diciamo. Prevenire le truffe ma soprattutto per sviluppare una rete di associazioni ma di una rete di rapporti dei cittadini che siano sempre meno isolati, che si confrontano, che non abbiano paura a tenere rapporti e a denunciare eventuali truffe. Il 13 febbraio a Lauser di Mantua in via Facciotto si terrà un incontro proprio sul tema con il relatore Daniele Bellotto, il sostituto commissario della questura referente per questo progetto. E incontri ce ne sono già stati e ce ne saranno anche all'Università della Terza Età. Continueremo questo rapporto di collaborazione anche quest'anno con una nuova iniziativa del tutto analoga nella quale però cercheremo di sviluppare soprattutto un'attenzione non tanto sulla difesa domestica, tema già affrontato, ma sulla sicurezza del cittadino, del cittadino anziano quando si muove in città. Grazie. Grazie. Grazie.